E bella a tutti ragazzi, bentornati nel mondo di Minecraft Ita di Stepney Stagione 2 perché oggi, come potete vedere, ho deciso di tornare con una piccola costruzione in questo bellissimo mondo e siamo qui di fronte alla mia casa che mi ero costruito nel suo mondo appunto che avevo cammuffato come monumento del CTM come vedete davanti ci sono tutte le lane perché quando l'abbiamo fatta avevamo appena iniziato Pantone Epsilon fail incredibile, quello di iniziare quella CTM, me ne pento ogni giorno di più qua dietro avevamo le nostre bellissime skin, quella di Stepney con lo zainetto di Wilson e la mia e il roller coaster che avevamo costruito qui perché questo, ricordiamocelo, nei piani originali di Stepney doveva essere il suo parco di divertimenti, aveva costruito qua l'ingresso e poco altro e noi glielo stiamo portando avanti ma cosa andremo a fare oggi? come mi avete chiesto in tanti e ultimamente l'ha fatto Super Alessandro giù nei commenti andremo a aggiungere un personaggio che manca qui nel mondo di Stepney e cioè Wilson, il suo fedele compagno perché è vero, abbiamo lo zainetto di Wilson che fa parte della skin di Stepney ma dobbiamo fare qualcosa apposta per lui, dato che è così importante e quindi oggi ho deciso di fare la skin di Wilson però mi sono reso conto subito di un problema e cioè che Wilson è piccolino e se avessimo dovuto farlo in proporzione con le nostre skin sarebbe stato di 5-6 blocchi e non avremmo potuto fare nessun particolare della faccia nemmeno piazzare gli occhi quindi cosa faremo oggi? faremo una specie di pixel art ma un po' a modo mio e cominciamo subito ho deciso di farla laggiù cosicché entrando qui dall'ingresso del parco si possa vedere bella bella la nostra pixel art sì perché voglio fare una cosa un po' come a Disneyland che c'è l'insegna, quella grossa di topolino noi faremo l'insegna di Wilson facendo diventare questo parco divertimenti ufficialmente Wilson Land allora questi due blocchi sono il centro intanto portiamo sulla terra poi dopo faremo una struttura intorno per sorreggere la nostra pixel art perché vogliamo farla chiaramente un pochettino in alto l'insegna del parco, no? ok così va bene cominciamo col costruire la testa di Wilson perché la nostra pixel art sarà appunto la faccia di Wilson quello che dobbiamo fare è piazzare sette blocchi ecco qua questa sarà la dimensione della faccia del nostro Wilson adesso la testa di Wilson non è però un quadrato perfetto è più un rettangolo allungato verso l'alto quindi invece che fare sette blocchi in altezza ne facciamo nove o magari otto perché dopo magari proveremo ad aggiungere anche i capelli se possiamo ok adesso aggiungiamo la lana nera che sarebbe la bocca del nostro Wilson facciamo due blocchi qua e poi cinque per così e chiudiamo il blocco sotto chiudiamo poi qua sotto con la lana rosa che sarebbe la lingua poi dopo da sotto controlleremo se è meglio fare tutti e tre blocchi rosa oppure se fare solo il blocco centrale rosa e mettere questi due lati neri adesso altro layer di lana rossa e qua sopra passiamo agli occhi uno, due e tre blocchi di lana bianca e qui sotto al centro un blocco di lana verde che sarebbe la pupilla del nostro Wilson ok adesso chiudiamo tutto tranne qua lasciamo il buco per quello che dovrebbe essere il secondo occhio del nostro Wilson ma lo sappiamo Wilson purtroppo non ha un occhio e quindi io direi che come particolare gli possiamo mettere la bendana abbiamo visto Wilson sia con che senza la bendana però noi per avere qualcosa in più da fare a questa pixel art gliela metteremo quindi riempiamo tutto di lana nera dove dovrebbe essere l'occhio e salendo qua sopra sostituiamo questo blocco sempre con la lana nera come se fosse la fascia della bandana scendiamo magari a dare un'occhiata tanto abbiamo l'elytra e vediamo com'è venuto allora intanto come vedete ho sostituito comunque i due blocchi rosa in più con due blocchi neri perché la lingua sarebbe stata se no troppo troppo grossa così devo dire ci sta molto di più e la bandana direi che va bene solo che giustamente potrei fare l'elastico dalla parte opposta così lo abbiamo che va in entrambi i versi bene 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 però intanto dato che sta calando la notte andiamo a dormire nella nostra casa qui all'interno del monumento delle CTM scendiamo qua al piano di sotto guardate che bella stanzetta che mi ero creato via aletto e bene così ok andiamo a sostituire il blocco della bandana oltretutto stavo notando adesso che sono sotto che manca un piccolo particolare e cioè quei capelli che ha Wilson in testa molto molto spettinati devo dire e che possiamo andare a fargli adesso prima sostituiamo questo blocco e questo blocco con dei blocchi neri questo lo togliamo e ci rimettiamo la lana rossa e lì sotto il blocco nero della bandana dovrebbe andare bene così ok siamo sulla testa facciamo qualche capello un po' a zig zag così qui magari li mandiamo su dritti e qua dalla parte opposta dovremmo esserci dovremmo esserci andiamo a dare un'altra occhiata magari ne aggiungiamo uno anche qua sull'altro bordo della testa dopodiché direi che potremmo aver anche finito adesso lo so che non è la rappresentazione di Wilson più bella sulla faccia della terra però dai passatemela insomma fare una cosa in 2D non è mai facile soprattutto quando non si hanno riferimenti e dai diciamo che più o meno è venuto decente anche perché adesso non lasceremo qua la pixel art così sospesa a mezz'aria faremo il contorno in puro stile Disneyland e poi metteremo magari qualche palo di sostegno intanto però volevo vedere se mi piace di più con l'occhio all'esterno invece che all'interno non so a voi ma a me piace di più così quindi per ora lasciamolo così poi magari fatemi sapere nei commenti in caso cambio allora adesso che colore gli facciamo intorno però sarebbe bello poter usare la lana bianca intorno che dite però dobbiamo andare a recuperarne un altro po' per fortuna qui nella zona del parco di divertimenti di Stepney ci sono un sacco di pecore che possiamo andare a tosare così almeno avremo tutta la lana che ci serve eccole qua belle pecorelle venite qua da papà ok dovremmo avere abbastanza lana o almeno lo spero perché dobbiamo fare un contorno abbastanza grande in modo che la nostra insegna del parco si veda da lontano quindi con la lana bianca cominciamo a riempire qua tutti gli spazi vuoti ok abbiamo finito quasi il contorno adesso però dato che non è venuto abbastanza grosso questo Wilson insomma è un pochettino lì piccolino rispetto anche al contorno che gli abbiamo fatto voglio provare a vedere se possiamo fare la faccia non quadrata ma leggermente più tondeggiante aggiungendo un blocco qua da entrambi i lati magari viene bene proviamo e vediamo dopo tutto non avendo nessun punto di riferimento dobbiamo un po' andare a braccio come si dice e fare dei tentativi per vedere cosa viene meglio insomma ok una cosa un po' così per dare quella forma un po' tondeggiante della guancia ok ecco fatto proviamo a scendere e vedere se è un po' meglio di prima ma si dai direi che ci siamo non è la pixel art più bella del mondo devo ammetterlo però dai sappiamo che siamo nel mondo di stepni e chiunque lo guardi può dire che questo è Wilson alla fine quindi il nostro obiettivo è raggiunto adesso finiamo un attimo di abbellire il contorno e poi potremmo dire di avere finito allora da lontano non è malissimo devo dire poi magari se stiamo proprio sotto anche qua un po' la prospettiva eh ce lo rende un pochettino più bruttino però da lontano dai ci può stare che poi insomma un'insegna è fatta per essere guardata da lontano non da sotto così allora facciamo i contorni della nostra lana e direi che possiamo provare ad usare gli slab perché così almeno non si allarga troppo questa costruzione che già è bella bella ingombrante chiaramente qua dobbiamo mettere il blocco pieno ma ci sta ok siamo agli ultimi slab poi avremo concluso ok direi che ci siamo alla fine dai non è venuto neanche male che dite secondo me ci sta dai assomiglia a Wilson assomiglia a Wilson adesso ultimissima cosa facciamo dietro due bei pilastri per sorreggere la nostra struttura direi più o meno qua con il legno scuro questo qua bello bello uniamo qua la struttura per dare un senso di maggiore solidità al tutto e che ne dite dell'insegna del nostro nuovo parco di divertimenti molto molto bella adesso magari rimanca solo nella prossima puntata una bella scritta luminosa Wilson Land lì sopra e poi avremo concluso molto molto bene e niente con la vista della nostra pixel art di Wilson qui nel mondo di Stepney io vi saluto vi ringrazio come al solito di aver visto il video sino alla fine vi invito a lasciare like commentare e condividere soprattutto iscrivervi al canale se non volete perdervi altri episodi della mia serie qui nel mondo di Minecraft di Stepney come al solito in descrizione trovate il mio link Instagram se volete e niente vi saluto bella iscrivetevi non vi siete ancora iscritti iscrivetevi